PEGI 18 È davvero un periodo straordinario in cui vivere. Un'epoca di mille invenzioni. Sono così tanti gli inventori che creano incredibili macchinari e che accumulano più oro della regina Vittoria in persona. Ma nessuno di questi scellini finirà mai nelle tasche dei poveri diavoli che hanno sputato sangue per costruire questo glorioso impero. I membri della classe operaia vivono come sonnamboli, ignari della macchina che li tiene schiavi. Che ne dite? Di aiutarli a svegliarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.